Il flash mob di Anula, di portatori sani di cambiamento, seguiti da Postano News, la festa dei disoccupati. Il flash mob di Anula, di portatori sani di cambiamento, seguiti da Postano News, la festa dei disoccupati. Il flash mob di Anula, di portatori sani di cambiamento, seguiti da Postano News, la festa dei disoccupati, seguiti da Postano News, la festa dei disoccupati.